Elisabetta Canalis pronta per un secondo figlio? La showgirl risponde così La Canalis pronta a dare un fratellino o una sorellina a Schiller Eva? Ecco cosa pensa Elisabetta. Elisabetta Canalis sta trascorrendo le vacanze di Natale con la sua famiglia a Cagliari, insieme al marito e alla figlia Schiller Eva. In questi giorni l'ex velina sta postando molto su social, raccontando con immagini e video i momenti felici di questo viaggio. Proprio sotto una di queste foto, qualche ora fa, un utente ha chiesto alla showgirl se avesse mai considerato l'idea di avere un secondo figlio e la risposta della Canalis, che non è tardata ad arrivare, non ha lasciato nessuno spazio all'immaginazione. Una seconda gravidanza per Elisabetta Canalis. Una fan su Instagram le ha domandato, Elie ma tu lo vorresti un altro bimbo?. Non credo ha affermato la Canalis senza però essere categorica nella sua risposta. La showgirl infatti dopo ha aggiunto odio la gravidanza ma poi sicuramente sarei felicissima Riferendosi, senza dubbio, ha la possibilità di avere un secondo figlio. Quello che si evince dunque dalla sua affermazione è che sicuramente avere un altro figlio non è tra i suoi programmi, tuttavia, qualora accadesse, la stessa ne sarebbe molto felice. Elisabetta Canalis e i progetti per il futuro, tornare in Italia? Le piacebbe molto. Elisabetta Canalis vive ormai stabilmente negli Stati Uniti d'America da diverso tempo. È lì che sta crescendo la sua bambina anche se, seppur felice, l'idea di ritornare in Italia non le dispiacerebbe affatto. È stata lei stessa ad affermarlo in un'intervista rilasciata a Il Giornale. Le mancano i parenti, il cibo italiano, gli amici e la sua Milano, città dove Elisabetta ha vissuto per diverso tempo. Negli schermi italiani però l'ex Velina torna a gennaio 2018. Per il programma Le espose di Costantino la Canalis partirà insieme a Costantino della Gerardesca per la Giamaica. Il tema principale della trasmissione saranno i viaggi di nozze. Il tema principale della trasmissione si è un'intervista a bisogni della Gerardesca per la Giamaica.